ciao a tutti i miei discepoli ben ritrovati torniamo come sempre parlare di bonsai per bonsai così vi spiego tutto così evitate di fare cose strane soprattutto evitate di fare errori e soprattutto quando fate un errore così sapete perfettamente cosa è successo così la volta dopo fate le cose fatte bene quindi andate a correggere perché però il principale dei neofiti non è soltanto che fanno cavolate perché magari seguono chissà chi che dicono di fare chissà cosa ma molto spesso non capiscono come correggere il tiro quindi sbaglia oggi sbaglia domani sbaglia dopo domani a un certo punto diventa tutto bonsai e quindi a certo punto poi ci si scoraggia non si fa più niente invece se si parte col piede giusto subito si inizia a cominciare a bomba piante che esplodono che escono fuori ok come questo mirto abbiamo tutte le carte regola per continuare a divertirci quindi andare a scalare la nostra collezione quindi ok prendo la pianta la miglioro la rivendo un'altra pianta miglioro la rivendo mi prendo una pianta che vale 2 che è sempre così sempre così ed è l'unico modo secondo me per fare bonsai seriamente l'unico modo per divertirsi praticamente perché se no se si rimane sempre in quella nicchia di chiacchieroni a un certo punto si molla che è semplicemente si molla perché non ci si diverte perché se la collezione non ci dà soddisfazione tutta roba messa lì ciclamini roba secca mondezza no certo punto ci si ferma e dopo ci si stufa chissà perché ovviamente come andare in giro con una panda andare in giro con una ferrari ovvio torniamo noi oggi vi faccio vedere una nuova pianta entrata in collezione si tratta di un mirto pianta piccola ma grossa compatta questo è uno show in ok questo è quello che io chiamo proprio show in perfetto quindi grosso come un pugno di una mano come un palmo della mano è grosso anche la base sotto quindi bello bello tosto viene su come un cono ok quindi su come un cono tutti i rami già pronti primari sono soltanto a fare un pochettino ingrossare ovviamente da fare la prima impostazione primaria però interessante perché intanto c'è un sacco di secco di qua di là quindi anche qua drammaticità a non finire in più queste sono piante che funzionano sempre in qualsiasi clima quindi caldo freddo tiepido vi spiego come mai nonostante tutti dicono che le mediterranee stanno bene al sud bla 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 la verità è che molto spesso anzi sempre ok la versione selvatica funziona la stragrande anche al nord italia ok come ad esempio il mirto questo è un piante che che vanno cioè vanno vanno come gli ormi campestri come gli aceri campestri gli aceri tridenti come i cipressi come gli olivastri come i lecci le filiree anche molto spesso si si attacca all'etichetta amo questo sta bene in pugno a modo che non sta bene attenzione certe piante invece funzionano molto meglio sud ok come gli olivastri però al nord funzionano molto 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 bene lo stesso non cambia niente praticamente magari non vanno 10 su 10 vanno 9 su 10 ok poi siete bravi con le tempistiche con la coltivazione zero problemi ok quindi mediterranei si chiamano mediterranei per nome come per nome però ad esempio se prendete un olivo è un conto se prendete un olivastro ragazzi tutta un'altra cosa ok molti dicono ma più o meno uguale no è tutta un'altra c'è cambia tutto come dire zelkova quindi olmo cinese oppure olmo campestre l'olmo campestre ragazzi è tutta un'altra storia cioè non c'è un cazzo da fare prende boom come il mirto stesso discorso andiamolo a vedere poi ve lo faccio vedere anche da vicino che questo è veramente molto piccolino da lontano magari non si vede niente pianta sta bene superverde una figata è questa una figata questa praticamente io consiglio di mettere un vaso un po più largo come sempre lasciarla spingere ma spingere tanto almeno un anno l'anno dopo già si posizionano tutti i primari si fanno saltare la mica non servono tac pianta da 1500 euro fine ok c'è fine perché perché è conico ha una grandissima corteccia incredibile ha un grandissimo secco ma proprio bello e quindi questa è una chicca spaventosa tra l'altro mi piace più di qua c'è il doppio fronte però qui forse un pochettino più bellino qua è bello lo stesso magari di qua può essere più interessante come retro perché c'ho questo ramo che è proprio davanti all'altezza giusta per creare un ramo di profondità guardandolo da questa parte ok quindi per quanto riguarda l'impostazione anzi vi faccio vedere la pianta intanto da un po più vicino così evitate di chiedermi foto di qua di la che non ho voglia non ho tempo mi scrivete in 200 ragazzi fatica cioè non è per essere stronzi ma si vede di qua poi se non si vede pazienza non me ne frega un cazzo vi dico la verità vi ripeto io non sono qui a vendere le piante queste sono piante che se le do via bene se non le do via stan tranquillamente qui nella mia collezione perché in due tre anni valgono il triplo cioè non c'è un'altra strada che vale il triplo quindi chi se la prende oggi domani dopo domani fra un anno due anni la rivendo al doppio trippi ok ovviamente sono l'ammazzate se no se no siete da ammazzare voi perché alla fine un mirto cazzo cioè è come un olmo va va spara guardate che roba tra l'altro torniamo a parlare di stasi vegetative ci siamo perché guardate qua ok come vedete quando si concimo quando si dà gli ho fatto un giro l'altro giorno insieme alle altre piante non sono arrivate ma per subito un bel colore super verde ed è per questo che uso prodotti adesso molto liquidi chimici ovviamente perché ho bisogno di riempire ok riempire performance quindi far allungare sparare far rinforzare la pianta subito non fra 1 2 3 mesi lento rilascio quelle solite dicerie che no è meglio quello meglio quell'altro è meglio il mio basta è meglio è meglio quello che uso io state tranquilli ragazzi di lì non si sbaglia cioè non si sbaglia mai che sono sei prodotti fatti apposta per lavorare in ecosistema sei prodotti tutti in un boom ed è meglio ed è chimico sì ed è meglio sì punto lo faccio sempre vedere poi trovate un verde così ok tornandone parlando impostazione abbia detto che questo magari è un fronte che possiamo utilizzare per magari è più bello di qua questo tavolino che maggiorano ti coglioni però diciamo che è bello anche qui però abbiamo questo ramo ok che ci sbatte qua nei denti bam così quindi quando avete una pianta non riuscite a trovarci bene il fronte ok perché è bella sia di qua che di là ovviamente non fate la cazzata di prenderla in diagonale cioè prenderla da una parte perché non si può sono errori che non vanno fatti ok quindi quando il fronte è bello di qua ed è bello anche di là bisogna guardare i primari dove partono quindi primo ramo secondo ramo e dietro che è dietro un ramo di profondità che bisogna vedere da qui ok anzi così di qua e dietro questo perché perché sopra i primari comunque lasciamo uno spazio dove l'occhio deve andare dietro per vedere la tridimensionalità quindi il ramo che ci sarà dietro quindi se abbiamo due rami così e dietro c'è un ramo buono ok quello è il fronte basta ok quello è il fronte poi per quelli che sono venuti qua a fare un workshop sono stati dei pomeriggi molto divertenti ho spiegato bene ho fatto vedere e lì non si sbaglia più ok perché una volta che si viene qui comunque due regoline ta 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 e noterete che l'impostazione primaria è così ok si fa così si fa in quel modo lì cioè io capisco inizio un sacco di dubbi ci sono passato anche io altri quando si inizia a frequentare persone che alla pianta da collezione noterete che in linea di massima 90 per cento le piante sono impostate tutte con lo stesso schema fine poi gli amadori piante veramente strane da collezione che ne so manca primo ramo primo ramo magari si usa un ramo di profondità ok fine si può fare tranquillamente però c'è dall'inizio usate la regola principale che primo ramo secondo ramo profondità e poi tutti i rami qua davanti ok però se abbiamo un ramo qui proprio cioè primo ramo alla altezza quasi il primo dei primi rami ragazzi quello si fa saltare perché non si può andare a coprire la prima parte di tronco che quello è fondamentale e importantissimo per far vedere poi il piede bene è un po di tronco che viene su poi dopo sopra si può chiudere tranquillamente con tutti i rami ok per quanto riguarda il retro come ho già detto bisogna vedere anche i rami dal davanti ok quindi tutti i rami che sta indietro se si può è buona cosa vederli dal davanti in qualche modo ok quindi facciamo uscire un po più qua o un po più là ho fatto il video speciale per quanto riguarda l'impostazione ho usato un olmo campestre una bomba allucinante gli spiego tutto faccio vedere tutto anche la soluzione dei rami ho usato un altro video e quindi quello sicuramente è uno di quei video che farà fare il salto di quali tè e perché senza quali tè si fa un sole prove si fa un sacco di cazzate si va avanti per tentativi che sul bonsai ragazzi non si fa che quindi quando vi dicono amo no ma sbagliando si impara col bonsai no ricordate sempre ragazzi col bonsai chi sbaglia sbaglia non c'è un cazzo da fare ok o avete una persona di fianco che vi corregge però sta persona deve essere in grado perché se è un deficiente come quelli che stanno sui social con la tastiera così non si combina niente neanche in due però io ho avuto la fortuna di avere uno anzi più maestri quindi mi sono beccato il meglio che c'era qua in italia ok perché non ho avuto solo uno ma anche due tre quattro ok e anche la fortuna di avere anche più di un gruppo che che segue un po ci si confronta di qua di là e quindi ho sempre bene o male l'occhio su altre piante ok che siano piante poi di altre di altre persone che magari sono anche molto più brave di me qui ho sempre l'occhio sulle piante c'è un cazzo da fare quando uno uno dei miei discepoli vieni qua al laboratorio mettere in mano esce di qui che ha una pianta che vale il triplo che due fili due tagli via pianta a 100 euro 300 pianta a 300 900 via ed è per questo che dovete prendere materiali che siano che abbiano una base solida perché così quando si va a raddoppiare capite quello che vi dico adesso quando si va a raddoppiare se una pianta da 10 euro vale 20 se una pianta da 150 vale 300 se una pianta da 500 vale 1000 ok dopo un'impostazione e dopo una sistematina due tagli almeno io lo faccio in due secondi voi ci mettete una vita perché non sapete dove come come cazzo fare normale però se vi prendete quel cazzo di video inizierete a capire bene bene come fanno le cose prima di chiudere ovviamente lo dico siccome sto facendo budget ok questa è una pianta che cederò se siete interessati ragazzi questo è uno show in viene una pianta da collezione ok punto fine viene una pianta c'è poco da fare questa è una pianta da collezione ragazzi viene fuori ve lo dico io non state lì tanto pensarci perché poi ve la fregano ve la prende un'altra non state a chiedere 200 foto fidatevi fida punto fine fidatevi chi se ne frega venite qui e ci conosciamo prendete la pianta vi spiego come si fa mi metto ma magari un attimo faccio una piccola potatura quindi sistemo anche due rami lì per lì e poi si inizia a fare buon sesso seriamente con piante che diventerà un qualcosa ok quindi siete interessati mi scrivete adesso non iniziate a farmi 200 domande perché non io ragazzi non sono il tipo cioè io allora io sono dell'idea che se una cosa ci piace se ci interessa la compriamo senza fare 200.000 storie perché non sto chiedendo 2.000 3.000 4.000 5.000 euro stiamo comprando un audi un audi a 5 costa 50.000 euro cioè sono quei soldi lì che devono girare mi piace la pianta la prendete vi rendete conto che non vi piace quando siete a casa la rivendete lo stesso prezzo siete a posto fine cioè non c'è tanto da discutere come va come non va ragazzi c'è una fame di piante in giro ragazzi non ce ne sono ma neanche non ce ne sono quando ci sono costano tanto quindi è impossibile anche avvicinarsi quando claudio bonsai e arriva una pianta decente per dire anche una bella bomba ragazzi prendetela occhi chiusi e smettetela di farle pulci perché tanto con due soldi non si compra un cazzo e in giro vinculano e basta questo è la verità ok ciao a tutti lasciate un mi piace condividete iscrivetevi al canale fatti bravi sempre sono stanchissimo tutto oggi a fare i pacchi anche oggi questo caldo massacro però sono contento di un sacco di ordini domani nuovo ritiro col corriere ok ciao a tutti lasciato mi piace condividete questo video con i vostri amici bonsai sti ciao ciao